Abbiamo organizzato il Pullman per poter venire a Cuneo a manifestare la nostra contrarietà a questo progetto. Siamo qui di un centinaio, siamo determinati a far sentire la nostra voce. Siamo partiti stamattina, era ancora buio, ci siamo trovati a Clavesana. Chi è il Pullman, chi con le proprie macchine ha raggiunto Cuneo, siamo qui con i nostri pischietti, con la nostra voce, a volte la lo siamo anche, ma siamo determinati perché questo progetto non ci fa piacere, questo progetto rovina tutti gli sforzi che da anni facciamo per portare avanti il nostro impegno, la promozione del nostro territorio, lo sviluppo di tutte le cose buone che riusciamo a fare, tutte le coltivazioni, tutti i prodotti di eccellenza, anche alimentari, che riusciamo a produrre e questo progetto che vuole l'insediamento di un deposito di rifiuti anche pericolosi, enorme, con rifiuti che arriverebbero qua da tutta Nord Italia probabilmente, va solo contro a tutti i nostri sforzi, rovina il nostro territorio, rovina il nostro futuro, il futuro dei nostri.